Amici di Vercelli Web, siamo con l'allenatore Sergio Silva dell'amatorio Occhi Vercelli alla vigilia di una scontro salvezza importante con Sandrico. Il mister vuole fare un appello ai vercellesi, alla città di Vercelli. Mister. Buongiorno a tutti. No, è veramente una partita molto importante per i nostri obiettivi. L'appello che faccio comincio così. Cosa devono fare in più questi ragazzi per avere supporto maggiore da parte di chi dice che ama l'amatore Vercelli? Se si parla dei risultati non penso che si va alla risposta perché i risultati stanno venendo e non vedo cambiamenti. Quindi il mio appello è questo. Venite a Palazzetto perché è ragazzo di 20 anni. Avere 50-100 persone in più che gli aiutano venendo qui a Palazzetto a Dicitali quando hanno più bisogno sicuramente danno una mano grossa. Noi stiamo mettendo tutto quello che possiamo per venire fuori ed arrivare al nostro grande obiettivo. Però penso sia l'ora di avere anche una mano dalla parte esterna, finire con le polemiche da parte di tutti e venire a dare una mano ai miei ragazzi che ne hanno bisogno. Questo principalmente. Il messaggio è questo. Meno polemiche sui social e più presenza a Palazzetto. Assolutamente. Il tifoso ha il diritto di contestare o di non essere d'accordo su tante cose, su tutto. Però se ama veramente i colori non ama la persona o le persone. Io se faccio il tifo per l'amatore faccio il tifo per l'amatore. Per i ragazzi che poi vanno in pista, neanche per la Nel Tornù. Non ho bisogno di quello. Però per Alex Raffaele, per David Ballestero, per Matti Milani, per Oscar Ferrari, per non dirgli tutti, sicuramente sì. Loro hanno bisogno della gente che gli dia il supporto e l'appoggio per continuare su questa strada che non è perché abbiamo fatto tre belle prestazioni e due buoni risultati che è già finita. Sabato abbiamo una partita importantissima che vogliamo continuare con le belle prestazioni e i risultati.